Ottimo risultato, essere uno dei due componenti che le regioni hanno espresso, io e un collega della Regione Puglia, ma non tanto per me, la mia professione, la mia carriera eccetera, ma soprattutto perché rappresenta un riconoscimento implicito del lavoro, del tanto lavoro che è stato fatto in Regione Liguria, quindi è un riconoscimento che servirà anche a portare la voce delle regioni all'interno di AIFA perché vi sono peculiarità particolari, vi sono dei distinguo da fare, le regioni non sono tutte uguali e quindi quello potrebbe essere un campo dove questi elementi vengono portati. AIFA è un importante rente regolatore pubblico e il farmaco, ricordiamoci, che rappresenta una delle voci di spesa più importanti in generale, il mondo sanitario e quindi in qualche modo conoscere più da vicino quelle che possono essere le dinamiche, i farmaci innovativi, ma anche mantenere i farmaci tutti, anche per le patologie a volte più rare e quindi garantire a tutte le frange di pazienti l'approvvigionamento dei farmaci stessi, naturalmente sempre in un contesto che è quello della sostenibilità economica.